Lotto 664 Si tratta di una pendola da tavolo parigina, perché il movimento viene definito parigino, il quadrante in bronzo, dorato, l'epoca e l'impero, l'altezza è di 37 cm, questo elegante movimento a forma di vaso, orologio a forma di vaso, movimento con suoneria delle ore e delle mezze sul campanello in argento, la sospensione a filo, il quadrante è firmato Musi, père, fils, orologer de sua altezza serenissima a Turin, completa di chiave e pendolino, ottime condizioni, revisionata, un orologio che ha suscitato molto interesse in questi giorni, sono molto rare le coppe, sono ancora più rari gli orologi firmati Musi. La base d'asta di 1000 euro è stata confermata, siamo a 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1600, 1800, 1900, 2000, 2100 euro, siamo a 2100 euro, io ho sei telefoni collegati, 2200, 2200 euro, Vanessa, Doriana, no Vanessa è qua, pardon, 2300 al telefono, 2003 Anna al telefono, vediamo, 24 Doriana, e ho sempre lei in testa, 25 Anna, il web fa 26 o era il 25? Era un 25, è arrivato tardi perché vince Anna al telefono, 25, 25 si può ancora andare avanti, si può ancora andare avanti, il web è più lento, vediamo se rilancia, 25 per adesso è di Doriana, 25 è tuo, se va va, ha messo giù, ah è di Anna, do Anna, giusto, troppe telefonate, sono circondato, benissimo, 26 il web, 26 il web, Anna mi fa 27, 27 Anna, benissimo, 27 Anna, abbiamo visto che il web è un po' lento, vediamo se recupera, 28 il web, 28 il web, Anna sicuramente mi fa 29, no, 28 il web, gli altri telefoni? Sono solo curiosi, va bene, allora io aggiudico 28 per la prima, 29, 3000? Grazie, 3000 in sala, non è per i telefoni, non è per Anna, non è per il web, è per il signore in sala, 3000 euro io aggiudico, premio la sala, 3000 per la prima, 3000 per la, 3000 e? 32? Ah, 32 al web, 34? Ma sì, 34, 34 in sala, 34 in sala, 34 in sala, vediamo, dobbiamo stancarlo il web, è molto importante, 36, 36 il web, non si stanca, 36, facciamo 38, l'ultimo colpo, se va va, 4, 4000 in sala, 4000 in sala, alla voce, sì, certo, sfidano le intemperie, una settimana che piove, si capisce più niente, 4000 per la prima, 4000 per la seconda, io aggiudico in sala, 1, 2, 1, 2, 3, è suo, 4000 alla paletta 288. Grazie a tutti.